Un web kit gratuito per i piani urbanistici territoriali dei comuni, lo ha presentato l'assessore regionale alla pianificazione territoriale e urbanistica Gabriele Cascino. Redigere un PUC costa, i comuni spesso decidono di rinunciare, solo un terzo dell'amministrazione Liguri è in regola, il resto è fermo a piani regolatori vecchi di decenni. Questo nuovo strumento semplifica le procedure e consente notevoli risparmi. Solo un terzo dei comuni Liguri hanno un PUC in vigore, 47 tematismi, 47 banche dati che hanno a che fare con il nostro territorio in tutti gli argomenti conoscibili e immaginabili sul nostro territorio regionale e soprattutto questi dati hanno valenza giuridica, sono i dati in vigore in quel momento in cui vengono scaricati, i comuni li potranno scaricare gratuitamente e soprattutto tutte queste 47 banche dati tematismi che poi sono composte da sottobanche dati, quindi è una banca data immensa come documentazione, come norme, come indicazioni e tagliata per il singolo territorio comunale, quindi ogni singolo comune avrà online la possibilità di essere scaricata e la banca data del proprio territorio. Non ci sono più scuse e soprattutto tutta questa attività è completamente gratuita e i comuni risparmieranno di pagare i professionisti che perdono tempo, denaro e risorse alla ricerca di tutte queste informazioni. Lo presentiamo qua in Genova, nelle altre città e nelle altre province stiamo facendo un lavoro diverso da quelle di illustrazione del piano territoriale regionale, lo presentiamo oggi, da oggi i comuni saranno dotati di una password per entrare e iniziare a lavorare con le nostre banche dati. La Liguria sta compiendo un altro passo verso la semplificazione urbanistica, passare dagli attuali sei piani territoriali a uno strumento unico. Stiamo andando avanti nel confronto concertativo con i comuni perché poi sono i nostri interlocutori siamo già stati a Savona e Spezia, domani saremo a Genova e poi nella provincia d'Imperia stiamo facendo un confronto per noi importante, stiamo ricependo critiche, comunicazioni ma anche suggerimenti per poter fare un piano che possa essere condiviso dal nostro territorio.